ciao a tutti bentornati sul nostro canale per la serie affitti brevi in 30 giorni quest'oggi parliamo di automazione dell'ingresso e della fuoriuscita di ospiti dalle strutture ricettive in nostra gestione se avete visto la terminologia o meglio la lezione sulla terminologia abbiamo parlato del check in e del check out ovvero il momento in cui una persona entra all'interno del nostro immobile check in e il momento in cui una persona esce dal nostro immobile ovvero check out bene abbiamo probabilmente anche già accennato al fatto che esiste un self check in e un self check out ovvero come dice la parola stessa una metodologia attraverso la quale l'ospite può accedere o lasciare l'immobile in maniera completamente autonoma questo è un grandissimo vantaggio per noi innanzitutto che ci permette di non essere dipendenti dai nostri mobili quindi anche se io ho un immobile e un ospite sta entrando in esso io posso magari essere a cena con la mia famiglia a dormire giocare alla playstation o fare quello che voglio ma dall'altra parte per non essere egoisti in realtà stiamo dando anche un grandissimo vantaggio al nostro ospite che può entrare con assoluta flessibilità infatti quando io sono entrato nel nel mondo degli affetti brevi non esisteva nessuno che facesse formazione non esistevano libri non esisteva assolutamente niente all'inizio inutile dirvi che io il check in li facevo di persona cioè andavo lì ci accordavamo che alle 4 ci vediamo di fronte al palazzo io arrivavo alle 4 e l'ospite magari arrivava alle 5 arrivava alle 5 e mezza alle 6 talvolta non arrivavano neanche e lì mi sono reso conto dei limiti di questa cosa perché subito dopo essere partito ho iniziato ad acquisire altri mobili e chiaramente non potevo sdoppiarmi all'inizio ho fatto affidamento ai portinai a delle persone che potevano aiutarmi dopodiché mi sono ingegnato con dei dispositivi che vedremo in questa video lezione chiamiamola così uno dei grandi vantaggi del self check in come dicevo è sicuramente l'avere un sacco di tempo libero per noi è avere flessibilità nei confronti dell'ospite ma è anche il poter accettare prenotazioni last minute solo oggi me ne sono arrivate tre all'ultimo minuto lasciando che io mi ritrovo dall'altra parte del mondo rispetto agli immobili ad esempio dove ho ricevuto queste queste prenotazioni l'avere un self check in mi permette anche di poter accettare una prenotazione alle 11 di sera per una persona che magari arriverà mezz'ora dopo all'interno dell'immobile mentre se facessi un check in classico qualcuno dovrebbe volare in quell'immobile lì last minute con conseguenti magari costi maggiorati per me ma anche costi maggiorati per l'ospite perché poi in realtà un late check in ad esempio può essere pagato di più però chiaramente un ospite magari non prenota quella casa perché deve pagare late check in mentre essendoci un self check in non deve pagare quindi l'offrire un self check in oltre ad avere un sacco di vantaggi logistici ci permette anche di avere una probabilità di ottenere prenotazioni maggiore rispetto a chi non offre questo servizio ma in questa lezione non voglio ripassare tutta la teoria del perché il self check in è comodissimo eccetera 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 voglio parlare di quali sono principalmente i dispositivi per automatizzare il check in infatti abbiamo principalmente tre tipologie di self check in attivi passivi e rudimentali dove per attivi chiaramente parlo di tutti quei dispositivi smart connessi intelligenti con i quali puoi interagire magari da remoto quelli passivi parlo di cassettine per le chiavi serrature per la cassetta della posta create ad hoc per il self check in e quelli rudimentali parlo di accessori veramente incredibili geniale chi l'ha pensato che possono comunque funzionare anche se rudimentali e andremo a vederli un po più nello specifico partiamo dai rudimentali perché perché ce li ho qui con me ne ho acquistati esattamente tre adesso metto qui e ve li faccio vedere a brevissimo e non sono nient'altro punto come dicevo prima dei sistemi di self check in non proprio super professionali però che magari funzionano quindi devo essere onesto non li ho mai attuati però se ad esempio mi trovassi in una situazione dove per qualsiasi motivo magari non c'è connessione ad internet e quindi non posso utilizzare un sistema di self check in intelligente sono impossibilitato ad installare una masterlock o semplicemente tengo questi sistemi rudimentali come backup quindi o un self check in attivo o un self check in passivo ma per sicurezza se si incastra la chiave se un altro si dimentica di lasciarla ok come backup come scorta o uno di questi sistemi partiamo dal primo che non è nient'altro che un fantastico sasso finto ok cerco di avvicinarmi alla camera sperando che metta a fuoco vedete è un sasso a tutti gli effetti con la possibilità di rimuovere un coperchio e inserirci delle chiavi non è troppo spazioso devo essere onesto c'entrano probabilmente le chiavi condominiali se avete quelle chiavi lunghissime di mille mila anni fa già questo sistema non va bene però insomma è un buon sistema ad esempio qui ho le chiavi di un altro sistema di self check in rudimentale che vi mostrerò a breve quello che posso fare prendere queste chiavi che adesso sono in un sacchetto di plastica infilarle qua dentro chiudere il tutto con questo fantastico coperchio e mettere questo sasso in giardino manderò chiaramente agli ospiti le istruzioni dicendo guarda sotto l'albero a destra trovi un sasso in questo sasso togli il coperchio e trovi le chiavi ripeto non è il massimo della professionalità non lo consiglio non è la cosa più sicura del mondo però è importante in qualità di formatore che io menzioni tutte le opzioni possibili immaginabili con i pro e i contro infatti insomma fare il formatore non significa ti dico cosa fare fare il formatore significa io ti spiego tutte le opzioni possibili immaginabili dalla più stupida la più intelligente della più economica la più costosa e poi tu in base alle tue esigenze in base al tuo feedback in base al tuo pensiero scegli l'opzione che più ti aggrada ma non è che io ti impongo il mio pensiero ad esempio ludovico utilizzo molto le masterlock e utilizzo molto il sistema nuki piuttosto che switch bot ma non è che io nel corso insegno solo masterlock switch bot e nuki io parlo di tutte le opzioni possibili immaginabili perché è giusto che un formatore faccia questo tipo di lavoro quindi primo sistema rudimentale un fantastico sasso finto ovviamente acquistato su amazon 10 15 euro non mi ricordo però è fatto veramente bene molto simpatico ma non troppo professionale il secondo sistema non è nient'altro che un finto irrigatore quindi chiaro che se avete un appartamento e non avete un giardino l'irrigatore non lo mettete da nessuna parte così come questo in pieno centro a milano dura 5 secondi prima che qualcuno non li tiri un calcio non lo tiri in testa qualcuno su un'auto ok però se avete una villa ok ci sta ad esempio io ho una villa ci sta che voi inseriate un finto irrigatore ancora una volta potete dare delle istruzioni al vostro ospite e dirgli guarda troverai un irrigatore in un determinato luogo lì basta fare un video è ovviamente inutile dirvi che questo irrigatore una volta svitato in questo caso contiene delle viti non so perché però ci potete incastrare delle chiavi dentro quindi questo è un altro esempio di self checking rudimentale devo essere onesto è abbastanza credibile soprattutto nessuno va nel vostro giardino a cercare gli irrigatori quindi difficile che qualche malintenzionato possa accorgersi che avete delle chiavi dentro un irrigatore però ripeto come sistema di backup se dovesse non funzionare il sistema solito questo secondo me è funzionale arriviamo poi ad un terzo sistema di check in rudimentale particolare come potrete intuire dai rumori è un oggetto abbastanza metallico e non è nient'altro che un finto vaso ok che dentro ha un doppio fondo finto e una volta sollevato questo doppio fondo si apre diciamo un ulteriore vano con una chiave che all'occorrenza può essere chiuso non capisco perché nel senso lo scopo di questa cosa è nasconderci delle chiavi se per nascondere le chiavi ho bisogno di una chiave diciamo che diventa un po complicato il tutto però insomma ha un doppio fondo io qui ci posso nascondere delle chiavi chiudere mettere questa cosa qui con sopra una pianta e all'occorrenza l'ospite può semplicemente sollevare questa parte qui con la pianta dentro vera o finta che sia capovolgere il tutto e trova le chiavi è funzionale nì nel senso ancora una volta anche per questo vaso si applica lo stesso concetto di prima ovvero non è funzionale ma per backup casistiche estreme eccetera è bene sapere che esistono anche queste tipologie di self check in passiamo adesso alle metodologie meno rudimentali ma comunque passive analogiche quindi niente di digitale purtroppo non le ho qui con me perché le ho tutte installate però parliamo principalmente delle cassettine per le chiavi o serrature particolari che con un codice ti permettono magari di aprire la cassetta della posta dove trovi le chiavi io personalmente sono un grande fan delle masterlock perché sono economiche costano dai 20 ai 40 euro funzionali esteticamente anche abbastanza gradevoli si integrano abbastanza bene puoi fissarle al muro alcune hanno i ganci e ti permettono di settare un codice da dare all'ospite e l'ospite una volta inserito questo codice chiaramente potrà aprire la masterlock e ottenere e così il mazzo di chiavi ripeto il vantaggio è principalmente la praticità e l'economicità il fatto che chiaramente non sia collegata alla corrente il fatto che non abbia bisogno di una connessione ad internet quindi black out non black out wifi che funziona wifi che non funziona non ci abbiamo problemi noi con questa tipologia di dispositivo però dall'altra parte cambiare il codice è abbastanza rognoso e quindi a livello di sicurezza non è il massimo perché scommetto che se io adesso vado a distanza di un anno in degli immobili che ho prenotato precedentemente dove il check in è stato fatto con una masterlock scommetto che il codice è rimasto lo stesso quindi molte poche persone cambiano il codice della masterlock e soprattutto se lo fanno lo fanno con un'elevata frequenza quindi non è proprio il dispositivo più sicuro come dicevo esistono poi anche delle serrature per la cassetta della posta che anch'esse funzionano con il codice quindi abbiamo praticamente gli stessi vantaggi e svantaggi di una masterlock diciamo un unico vantaggio è che se magari nel condominio storcono il naso per il fatto che voi abbiate applicato una masterlock a muro o che vogliate applicare una masterlock a muro beh nessuno vi può dire niente se applicate invece una serratura differente nella vostra cassetta della posta quindi laddove rompono le scatole per la masterlock o dove non c'è spazio per la masterlock l'opzione della serratura per la cassetta della posta è sicuramente un'ottima alternativa passiamo poi infine alla macro categoria chiaramente dei self check in attivi quindi tutti questi self check in smart come ad esempio nuki piuttosto che vk quindi dispositivi intelligenti collegati ad internet con funzionalità bluetooth wifi che ti permettono di creare un codice univoco per ogni ospite che viene a casa di controllare gli accessi di inibire talvolta anche gli accessi se necessario e di fare tutto in maniera un po più smart questo è un video youtube diciamo abbastanza basico ovviamente nel corso abbiamo ore e ore con casi studio specifici per ogni singola tipologia di self check in ma per darvi un'infarinatura ovviamente esistono anche ripeto tante metodologie per automatizzare l'ingresso e la fuoriuscita degli ospiti in maniera smart non solo serrature di casa non solo proprio la porta per entrare in casa ma anche ad esempio magari il portone condominiale il tutto sempre senza intervenire sull'impianto del condominio perché voi non potete andare e aprire i cavi del citofono diciamo condominiale quello che voi potete fare intervenire ad esempio sulla vostra cornetta di casa sulla cornetta del vostro citofono lì potete fare quello che volete ovviamente spieghiamo tutta una serie di dispositivi come switch bot i le lescelli il ring eccetera 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 tutti i dispositivi che ripeto in maniera smart quindi controllabile da remoto permettono agli ospiti di entrare il mio consiglio è in generale di avere sempre un sistema principale che può essere attivo o passivo e poi un sistema di backup quindi ad esempio serratura smart e come backup una master lock o serratura smart e come backup un sistema rudimentale o semplicemente un sistema passivo come una master lock e una seconda master lock o sempre un sistema rudimentale è importante avere dei backup perché comunque tra i vari diciamo contro di questi dispositivi che talvolta ci può essere un guasto può essere che una chiave si incastri nella master lock e lo sportellino non si riesca più ad aprire bene può essere che l'ospite precedente si dimentica di lasciare le chiavi e voi lo scoprite solo quando arriva l'ospite successivo può essere che ci sia un blackout e la serratura smart magari non funzioni o può essere che ci sia un blackout questo inibisce la possibilità di comunicare attraverso il wifi con la serratura smart che magari funziona pile quindi potrebbe aprirsi lo stesso ma in virtù del fatto che non c'è connessione ad internet comunque la serratura smart non funziona ed ecco che a quel punto è indispensabile avere un sistema di backup ora tutto questo potrebbe sembrare estremamente complicato o mio dio devo spendere un sacco di soldi è complicatissimo ovviamente spiegato così in dieci minuti su youtube può sembrare complicato ma ovviamente dentro gmb academy abbiamo delle guide step by step dedicate al cosa scegliere quando sceglierlo quanto costa eccetera 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 quindi molto più semplice di quanto non possiate immaginare e si può automatizzare un immobile letteralmente a partire da 20 euro come detto all'inizio sino ad arrivare magari a 200 euro per le serrature smart più costose ma ci sono anche serrature smart che funzionano benissimo da noi recensite a 100 euro per concludere quindi quest'infarinatura su self check in e self check out quando consiglio di adoperare questa tipologia di fuoriuscita o entrata degli ospiti beh come ho detto laddove la flessibilità è importante come può essere ad esempio in delle grandi città dove gli ospiti arrivano magari anche solo per soggiornare 24 ore dall'altra parte se affittate ad esempio delle ville o in località estive dove una persona innanzitutto magari sta due tre settimane secondo me è meglio avere un contatto fisico non è obbligatorio ma se una persona sta due settimane andare voi o mandare qualcuno per dare le chiavi e dover fare il check out tra due settimane è sicuramente una scelta intelligente anche per capire chi sta soggiornando a casa tua e soprattutto quando si parla di immobili di lusso è importante avere un referente perché non si può vendere un immobile da 1000 euro a notte e dire trovi le chiavi nella cassettina o meglio puoi farlo ma secondo me una persona che spende 1000 euro a notte almeno la decenza di presentarti per per ringraziarlo della sua prenotazione tu o un qualcuno di delegato per conto tuo anche pagato 20 euro secondo me è importante averlo questo non è ripeto indispensabile non è una legge è semplicemente una regola di buonsenso nei confronti di chi sta spendendo veramente tanti soldi per soggiornare nel nostro immobile dopodiché conosco gente che fai self check in anche in immobili di lusso sono scelte sono filosofie io come dico sempre devo sempre raccontarvi e spiegarvi tutte le metodologie al di là che io le condivida o meno quindi sappiate che si può fare self check in anche in immobili di lusso anche se io personalmente lo sconsiglio per questo video è tutto breve ma intenso trovate maggiori informazioni su bmb academy qua nella didascalia assieme ad altri contenuti gratuiti non dimenticatevi infine di iscrivervi al canale per altri video sul mondo dell'affitto breve e non solo ciao